Buongiorno ragazzi, oggi vorrei parlarvi di quelli che ancora scrivono Ugo nei commenti del 2019 Veramente voi eravate gli spermatozoi più potenti al tempo in cui vostra madre è rimasta incinta? No, perché per me eravate più coglioni L'Italia purtroppo è quel posto di ritardati dove quando dice a dei ragazzini scrivete questo nei commenti e tutta la mandria lo fa Dice porco tuo io ve brucio Io non so adesso chi ha messo in giro questa moda di Ugo, di Gino l'anno scorso Ma porco Giuda, fate apposta di essere così coglioni o siete nati proprio così? Perché se siete nati così, vabbè pazienza, ma se lo fate apposta Io non voglio condividere il mio ossigeno con certa gente ritardata, cioè voglio dire è uno spreco per l'umanità Io voglio fare l'ecologista, cioè uccidiamoli tutti A me sti commenti mi fanno venire l'ebola Ma zappai la terra e non rompete i coglioni su Instagram